Roma, puttana, quattro dischi, un gatto, una serata strana, papara, papara, Roma, spogliata, dai suoi grandi amori, dai suoi belli fiori, Roma, fatata, lasciati cantare, sta serenata. Per i più giovani, ai più giovani questa canzone, questa bella canzone, non dice nulla, per noi vecchiacci boomer, ricorda un bravo cantante, Luca Barbarossa, che la cantava, la presentò al festival di Sanremo, quando il festival di Sanremo era il festival di Sanremo e non il concerto del primo maggio, quando la presentò nel festival di Sanremo 1981, 1981, forse, mi sa che voi già avete capito di cosa voglio parlare, no, premetto che non ho visto il docufilm, la Ergon de Turone, mi basta quello che so, cioè per dirvene una, il 1981, io ero in prima elementare, ero in prima elementare, un anno che ricordo, un anno che ricordo, cioè di cui un ricordo molto vivo, a partire da il primo giorno di scuola, tutte queste robe qua, poi un ricordo purtroppo tragico per altri italiani, quello del terremoto del 1980, del 23 novembre, un ricordo vivissimo, in pratica quella sera, si guardava, mio papà, i miei zii, si guardava la sintesi di Juve-Inter, vinse la Juve 2 a 1, rigore di Bredi e gol di Scirea, per la Juventus, Lian Bredi, non Tom Bredi, Lian Bredi, l'irlandese, non il quarterback americano, e gol di Scirea, per l'Inter, vi sa che segno Ambu, per l'Inter, l'Inter era campione d'Italia in carica, quella sera cominciò a tremare il tavolo, io avevo sei anni, ero una peste da piccolino, ero una peste, mia nonna mi rimprovera, c'era il mio fratello, che aveva due anni, con i miei cuginetti più piccoli, seduti sul tavolo, mia nonna mi rimprovera, stanno i bambini, perché muovi il tavolo, e non ero io che muovevo il tavolo, purtroppo era qualcos'altro che muoveva il tavolo, quella sera lì, ricordo che quella notte si dormì in macchina, per paura, perché poi sapemmo che cazzo stava succedendo, dalle prime frammentarie notizie dei TG, sapemmo che cazzo stava succedendo, purtroppo in Campania in Basilicata, anche in alcuni paesini del Foggiano, dell'entroterra Foggiano, quello fu un campionato particolare, spezzettato per le numerose soste della nazionale, impegnata a qualificarsi ai mondiali dell'82, un campionato che, non tra i più belli dal punto di vista squisitamente tecnico, mancava il Milan, mancava la Lazio, che erano in Serie B per le scommesse, ma uno dei più avvincenti dal punto di vista agonistico, cioè per dirvene una, a cinque giornate dalla fine, c'erano i due punti a vittoria, il campionato era 16 squadre, ma anche in coda fu molto avvincente, arrivarono 5-6 squadre, tutti con gli stessi punti, e il Brescia retrocesse per gli scontri diretti, dopo una grande rimonta, retrocede per gli scontri diretti, il Brescia retrocede insieme alla Pistoiese, di Luis Silvio, il Perugia, l'ultimo Perugia del grande ciclo, iniziato con Castagnier, ricordo che, cioè ricordo, mi sono documentato, perché ero piccolino, a cinque giornate dalla fine, Juve, Roma e Napoli erano a pari punti, con il Napoli che aveva, il calendario a suo favore, che aveva due partite in casa, e in quelle due partite in casa, fece un solo punto, perché è persa incredibilmente, col Perugia ultimo in classifica, su autogol di Moreno Ferrario, insomma, si arriva, due giornate dal termine, con lo sconto diretto del 10 maggio, fra Juve e Roma, quello del famoso gol di Turone, a me piace raccontare gli antefatti, prima di quel campionato, voi sapete che Roma, per Roma, e le romane in genere, il potere politico, no che ci ha messo lo zampino, ma ha sempre avuto un occhio di riguardo, e di conseguenza Mamma Rai, e tutto il resto, la Roma era molto attesa, sin dalla vigilia di quel campionato, perché l'IDOM l'hanno prima, dopo una brutta partenza, aveva fatto bene, aveva vinto la Coppa Italia, con la Roma, poi era arrivato Falcao, se non ero aperti gli straniere, agli straniere, era arrivato Falcao, e Falcao è... non dico che successe lo stesso, per l'arrivo di Maradona a Napoli, ma non siamo neanche molto lontani, come aspettative, la Roma, dopo il fiasco in Coppa, con Carl Zeiss Iena, squadra dell'ex Germania Est, la Roma al primo turno, vince 3 a 0 all'Olimpico, stradominando, poi ne piglia 4, in Germania Est, viene clamorosamente eliminato, una squadra che arriverà in finale, di Coppa delle Coppe, perderà con la Dinamo di Tiblisi, all'epoca squadra sovietica, oggi georgiana, e ci furono accuse di doping, ai tedeschi dell'Est, oddio, a posteriori accuse anche, in certo modo anche verosimili, e niente, quel campionato lì, la Roma, dopo le prime incertezze, un brutto 0-4 a Napoli, nelle prime partite, vince in casa dell'Inter, quella Roma lì, con tre gol di Pruzzo, subisce l'ultima, la seconda e ultima sconfitta, di quel campionato, proprio quel 23 novembre dell'80, il giorno del terremoto, a Cagliari, 1 a 0, poi non perde più, non perderà più fino a fine stagione, tra la campionata e Coppa Italia, non perderà più una partita la Roma, farà molti pareggi, anche con squadre di bassa classifica, il Como, l'Ascoli, il Catanzaro, che era all'epoca il Catanzaro, l'Avellino, perderà molti punti con le piccole, ma della Juve dopo un avvio così così, anzi, molto negativo, un avvio molto simile a quello di quest'anno, è solo che all'epoca non c'era il Super Napoli, che ha fatto il vuoto, un avvio molto simile a quello di quest'anno, la Juve, subito fuori dalle coppe, tra pattoni contestato, Bettega che non ingranava, Causio in crisi, poi, con l'anno nuovo, dopo la fine di tutto quel ciclo di partite, nella nazionale, la Juve comincia a ingranare, fino ad arrivare a lottare per lo scudetto, e poi arriva sto Juve-Roma, Juve-Roma che ha un antefatto, questo Juve-Roma, che è la squalifica di Bettega, perché certi particolari non ve le dicono, allora, prevesse che alla Juve, nel derby d'andata col Torino, che perse 2-1, dopo quel derby, la Juve, Bettega, Gentile, e un altro paio di giocatori, furono squalificati, per le polemiche, dopo Juve-Torino, per un gol concesso a Graziani, per una carica su Zoff, una cosa del genere, e prima di Juve-Roma, che succede? Bettega viene squalificato, perché? Stiamo parlando dell'anno successivo, allo scandalo delle scommesse, dove la Juve era stata sfiorata, e in tanti dicono anche graziata, è una cosa non inverosimile, devo essere sincero, ascoltando ciò che diceva Carlo Petrini, l'ex calciatore del Bologna, cosa era successo? C'era stato Juve-Perugia, vinto con grande fatica dalla Juve, 2-1, in tanda finita con Pordenone, Pordenone 1-0, partita da vita con grande fatica dalla Juventus, negli ultimi minuti, dove ci fu un piccolo giallo, dove PIN, il centrale del Perugia, che poi avrebbe giocato anche con la Fiorentina, accusa Bettega di un tentativo di corruzione, no, no di corruzione, dire facci vincere di qua, di là, vediamo cosa fare, insomma, sapete com'è? Con tutto il cancan mediatico della Juve graziata, sul calcio scommesse, Bettega viene squalificato, viene squalificato, a Bettega viene combinato una squalifica, prima dell'incontro con la Roma, ok? Peccato che Juve-Roma, viene squalificato per una giornata, o due giornate, e roba del genere, peccato che Juve-Roma si gioca la tredicesima di ritorno, Juve-Perugia era la settima, era la settima d'andata, quindi avrebbe dovuto scontare l'ottava e la nona di ritorno, non la partita con la Roma, e va bene. Poi c'è Juve-Roma, c'è una partita, una rissa praticamente, Furino viene espulso, poi c'è sto gol di Turone, vedete ragazzi, è chiaro che non c'era il VAR, non c'era tutta questa tecnologia che c'è adesso, io devo aggiudicare dalle immagini, a me sembrava regolare quel gol, aggiudicare dalle immagini, poi Sassi mi dice che le immagini sono state montate in un certo modo, all'epoca non c'era la diretta, c'era solo il novantesimo minuto e la domenica sportiva, non c'erano diecimila telecamere che ti potevano, l'impressione mia era che in effetti fosse regolare il gol, però se Sassi dice quello che dice, per me resta un mistero quel gol di Turone, la Juve era in dieci, probabilmente la Roma, oddio, oddio, sul finale Fanna, Tancredi fa un mezzo miracolo su Fanna, un tiro di Fanna, però ammettiamo che la Roma avrebbe vinto quella partita, al limite si sarebbe andati allo spareggio, perché la Roma sarebbe andata avanti di un punto, la Juve poi vinse a Napoli, e in casa con la Fiorentina, la Roma vinse con la Pistoiese, già retrocesse, pareggiò in casa dell'Avellino che doveva salvarsi, al limite ci sarebbe stato lo spareggio, perché all'epoca c'era lo spareggio, si decideva con lo spareggio, in ogni caso questo episodio è stato indicativo, secondo una vulgata di un qualcosa, che precorreva ciò che sarebbe venuto a galla con Calciopoli, eccetera, eccetera, che squadre erano quella Juve e quella Roma? Secondo me erano due squadre molto simili, con una differenza, con una differenza fondamentale, la Roma basò più che altro le sue fortune, sui gol di Pruzzo, il capocannonier mi sa che fece 19 gol, una roba del genere, sui gol di Pruzzo, oltre che sulle giocate di Falcao e Bruno Conti, c'era il giovanissimo Carlo Ancelotti nella Roma, la Juve quell'anno lì fu più che altro, ma anche l'anno successivo, la Juve non aveva un vero e proprio marcatore, Bettega era in chiaro declino, era in chiaro ed evidente declino Bettega, causa altrettanto, la Juve fu un po' una cooperativa del gol, mi sa che i capocannonieri di quella Juve furono Tardelli e Cabrini, i capocannonieri di quella Juve lì, era la Juve che non dava punti di riferimento, mentre alla Roma sapevi che dovevi marcare Pruzzo, Falcao e Bruno Conti, come li dovevi marcare, tant'è vero che il gollo fatturone su sponda di Pruzzo, no, di Falcao o di Pruzzo, mi sa di Falcao, non vuole dire una cazzata, mentre sulla Roma sapevi che dovevi marcare, anche se erano fortissimi, la Juve era un po' una squadra che non ti dava punti di riferimento, fece una grande annata Domenico Marocchino, che poi sostitui Causio, fece più di qualche gol scirea, uno con l'Inter e altri molto importanti, fu un campionato teso, avvincente, anche se povero tecnicamente, sì erano tornati gli stranieri, ma il gioco non era di grande qualità, tant'è vero che in Coppa Inter di Bersalini a parte, quell'anno si facemmo cagare, l'anno dopo facemmo ancora peggio, tutti fuori a seconda, tutti fuori, prima della fine dell'anno solare italiana, quell'anno lì, che poi avremmo vinto i mondiali, niente, tutti hanno parlato di questa docufiction, tutto il resto, io ho voluto ricordare quel Juventus Roma, che poi avrebbe dato in là a una rivalità negli anni a venire, avvincente, perché poi di Juventus Roma potremmo scrivere veramente pagine bellissime di storia, fino a metà anni Ottanta, cioè, la Roma si piglia subito la rivincita in Coppa Italia, dove ci eliminano, proprio a Torino, poi la vince la Coppa Italia contro il Torino, come l'anno prima, di nuovo ai rigori, poi verrà di nuovo a vincere in campionato la Roma con gol di Falcao su Papera tra Brio e Zoff, a ritorno vinciamo noi 3-0 in casa loro, perché avevano un sacco di defezioni, e poi l'anno del loro scudetto, noi li incontriamo in campionato e in Coppa Italia, li battiamo 4 volte su 4, noi vinceremo la Coppa Italia in finale col Verona, l'anno della finale con l'Hamburgo, noi li battiamo 4 volte su 4, poi l'anno successivo due pareggi, l'anno dopo ancora due pareggi, fino alla sfida dell'86, al duello dell'86, dove noi vinciamo l'andata 3-1, loro ci bastonano 3-0 al ritorno, poi arrivò quel Roma-Lecce che praticamente è chiusa l'epoca della grande Roma degli anni Ottanta, perché gli anni dopo la Roma cominciò a far passi indietro e ci sarebbe voluta la Roma di capello e totti per riportarla a certi livelli, ragazzi, iscrivetevi al canale, come vedete io di polemiche non ne parlo, a distanza di 42 anni continuo a dire per me forse era gol, ma non ci sarà mai la certezza, non ci sarà mai la certezza, assoluta, un po' come il gol non gol di Inghilterra Germania del 66, ci fosse stato il VAR allora, ma, certo è che le squalifiche, una cosa è certa, se da un lato fosse il gol di Turone era regolare, dall'altro la squalifica di Bettega prima della partita, che era pure in crisi, ma che era il leader della nostra squadra, la squalifica è un po' a capa di cazzo, ma, ci fa pensare, ma perché due sono le cose su quella squalifica lì, se tu pensi che Bettega abbia tentato una combine, mi dai una squalifica ben più inconsistente di due giornate, o tre giornate, che li dette, e soprattutto me lo squalifichi subito dopo Juve Perugia, me lo squalifichi, no che aspetti sei partite prima di, vabbè, beh, ragazzi, iscrivetevi al canale, tra poco, o tra una mezz'oretta parliamo di Serie C e dei play-off, del meccanismo dei play-off, iscrivetevi al canale,